Il Partito Democratico dell'Aquila in una nota esprime plauso e ringraziamento al questore Enrico De Simone e alla Polizia di Stato per la pronta risposta alle inquietudini dei cittadini dopo il presunto omicidio di venerdì sera in via Forte Braccio. Il Partito Democratico però evidenzia come la cronaca degli ultimi giorni sia preoccupante con l'occupazione di un edificio in via Paganica come piazza di spaccio e un bivacco di spacciatore smantellato a Monteluco di Roio. Arrivano così le critiche all'amministrazione Biondi. Il Partito Democratico critica il sindaco del capoluogo di regione per la sua gestione della sicurezza e del disagio sociale. Le richieste di esercito in strada e celere in tenuta antisommossa da parte della maggioranza sono definite farneticanti mentre il sindaco Biondi dovrebbe prendere finalmente coscienza che l'Aquila va amministrata. Il Partito Democratico propone di potenziare il personale in questura e della polizia municipale, realizzare interventi di carattere sociale e di inclusione, riqualificare socio-culturalmente le aree urbane, recuperare lo spazio pubblico come luogo di incontro, socialità e cultura e illuminare i luoghi bui della città curando gli spazi pubblici. Il Partito Democratico conclude affermando che una comunità attiva e presente è la miglior forma di prevenzione possibile.